Storia di Iqbal, capitolo 14 Abbiamo viaggiato per più di un'ora nell'oscurità. Non c'era neanche la luna e faceva freddo. Così noi, che stavamo nel cassone del pick-up, abbiamo cercato rifugio sotto il telone impermeabile per ripararci un po'. Sembravamo dei neonati sotto la copertina. Chissà che spettacolo! A me scappava da ridere, ma ho capito subito che non era il caso. Erano tutti molto seri e tesi e nervosi. Nessuno aveva voglia di ridere. E Zankan ci aveva avvertito, l'hai sentito anche tu Fatima, ci aveva detto attenti, attenti, mi raccomando, questa volta è più difficile del solito. In effetti un intervento così non l'avevamo mai fatto. A un certo punto abbiamo abbandonato la strada asfaltata e imboccato uno sternato tutto buche. Non ho idea di dove fossimo. Attorno non c'era niente, buio, silenzio e il vento gelato che ci pelava al naso. Siamo arrivati in vista della fornace che albeggiava appena. Era una spianata tutta sassi e fango, senza un albero, senza un filo d'erba. La fornace era come una collina di mattoni, brutta, con una ciminiera alta e tozza che si stagliava contro luce. Stavano già lavorando, Fatima, perché è nell'ore del mattino che si riesce a produrre di più. Poi il sole, la affa, la stanchezza rallentano il lavoro e ti spezzano le braccia. Quando siamo arrivati, non hanno neanche alzato la testa per non distrarsi. Dovevi vederli, Fatima. Erano sparsi per la spianata, ancora confusi con le ombre del buio. Ogni famiglia ha la sua buca. Dentro la buca lavorano i bambini che impastano terra e acqua. Fanno delle specie di pagnotte di fango. Usano una piccola zappa per scavare il terreno. È un terreno duro. Le bambine, invece, devono andare a prendere l'acqua al pozzo che dista quasi un chilometro. Fanno avanti e indietro con delle grosse tanniche di plastica da 20 litri. Poi i bambini gettano l'impasto alla madre che lo lavora un'altra volta proprio come se fosse pane. E la madre lo getta al padre che lo pressa dentro una cornice di legno, toglie il di più e infine rovescia il mattone a terra a seccare al sole. Ci sono queste lunghe file di mattoni che attraversano la spianata e si allungano di minuto in minuto come le spire di un serpente. Ma allora nelle fornaci ci lavorano famiglie intere? Per forza! Là tutti sono pagati a pezzo. In un giorno devono impastare 1200 mattoni per avere 100 rupie. Sono tante 100 rupie! Lo credevo anch'io ma ascolta! Siamo scesi dai furgoni, ci siamo avvicinati a un gruppo ed Esan Khan ha spiegato al capo famiglia chi siamo e cosa volevamo. L'uomo non ha neanche alzato la testa. Era accasciato a terra e ogni 30 secondi sfornava un mattone. Era sporco, aveva la barba e i capelli lunghi impastati di fango. Esan Khan ha insistito. L'uomo, sempre senza alzare la testa né interrompersi, ha mormorato Per amore di Dio, fratello, andatevene! Ti giuro, Fatima, mi veniva da piangere perché è tremendo quando vedi un bambino che lavora in condizioni disumane. Noi lo sappiamo ma quello era peggio perché era un uomo, un adulto, un padre e non lo so. Cosa aveva? È che non sembrava più un uomo. È che non aveva più niente. Lui e tutti gli altri che nella luce crescente strisciavano in terra seguendo la loro fila di mattoni. Mi è venuto in mente il nostro Salman che ci aveva lavorato nelle fornaci e che si è sempre rifiutato di parlarne. Ora capisco il perché. Povero Salman, ti ricordi le sue mani? Sì che le ricordo. Allora mi sono avvicinato alla bucca e ho cominciato a parlare con i bambini e anche loro all'inizio non mi volevano rispondere. Ma poi il più grande avrà avuto la mia età ha cominciato a raccontarmi e intanto continuava a scavare con la sua zappa e a versare acqua sull'impasto. Era coperto di mota dalla testa ai piedi. Cosa ti ha detto? Che loro erano in sé in famiglia e che riuscivano a fabbricare anche 1500 mattoni i giorni fortunati. se la terra non era troppo dura se non mancava l'acqua nel pozzo se solo pochi mattoni si spezzavano alla sferza del sole perché i mattoni che si rompono non vengono contati. Che certi giorni guadagnavano 120 rupie e che non bastavano. Come mai? Perché dovevano pagare al padrone l'affitto della baracca dove vivevano. mi ha indicato un edificio basso e stretto accanto alla fornace. A ogni famiglia spetta un locale di 3 metri per 3 con una stufa per cucinare qualche branda un finestrino senza vetri. E al padrone mi ha spiegato devi pagare anche il carbone che consumi e la roba da mangiare puoi comperarla solo da lui e tutto costa molto più caro e quando hai comperato il grano per i roti e un po' di lenticchie e di cipolle una fiala di olio qualche legume non ti resta più niente della tua giornata di lavoro. Loro avevano un debito enorme e non riuscivano a scalare una sola rupia. Io mi ha detto erediterò il debito di mio padre e i miei figli lo erediteranno da me. Si è bagnato le mani nell'acqua torpida andate via ha aggiunto poi tra poco arriverà il Munshi il direttore e lui non ama che qualcuno venga qui. E tu cosa gli hai detto Iqbal? Io non sapevo cosa dirgli gli ho visto i piedi a lui e ai suoi fratelli il più piccolo avrà avuto cinque anni mai visto dei piedi così ho girato la faccia alla svelta ma lui se ne è accorto che lo guardavo si è messo a ridere guarda mi ha detto sotto la pianta del piede aveva una specie di callo alto due dita nero spaccato quando si avvia la fornace mi ha spiegato bisogna salire sopra lassù con le ceste e versare nel buco che c'è al centro il carbone per alimentarla è come un drago la fornace mangia mangia e non le basta mai dovresti sentire come brontola e poi sputa fiamme e non brucia ho chiesto certo che brucia idiota mi ha risposto non ho più saputo cosa dirgli non avevo mai visto Iqbal così giù di morale quel giorno tutti gli uomini erano tornati dalla spedizione scuri in volto e come scoraggiati perfino e Zankan che era sempre ottimista e pronto a scherzare cos'è successo poi ho chiesto anche se lo sapevo già perché la voce si era sparsa subito al loro ritorno ma mi sembrava che Iqbal avesse bisogno di parlarne è arrivato in Munshi su una grande automobile ci ha visto che parlavamo con gli operai e si è molto arrabbiato ci ha urlato di andare via e Zankan gli ha spiegato chi eravamo e che quegli uomini erano liberi erano lavoratori e che noi avevamo il diritto di parlare con loro ma quello urlava sempre più forte capita ogni volta lo sai anche tu e perciò non eravamo preoccupati il Munshi si è guardato attorno sembrava pazzo era pieno di odio e di rancore verso di noi è corso nel suo ufficio una baracca in lamiera dipinta di verde l'unica con la luce elettrica si vedevano i fili abbiamo pensato che avrebbe telefonato a qualcuno ai suoi compari o magari alla polizia stiamo uniti ha detto Zankan non possono farci nulla il Munshi è uscito dalla baracca stringeva qualcosa di nero tra le mani ha allungato le braccia davanti a sé aveva una pistola Fatima ha sparato abbiamo sentito i colpi mentre ci sparpagliavamo lungo la spianata mentre scivolavamo sul fango mentre cercavamo una via di fuga ha sparato e sparato e intanto continuava a coprirci di insulti e sembrava che non avrebbe smesso mai ha sparato per uccidere Fatima ed è un miracolo che nessuno sia rimasto ferito siamo risaliti sui furgoni e siamo scappati è la prima volta che succede era sera nella grande casa le luci erano accese e stavamo aspettando che ci chiamassero per la cena dalle finestre entravano con prepotenza i soliti rumori della strada questo non cambia niente Iqbal gli ho detto lo so ha annuito lui continueremo lo stesso ma c'era qualcos'altro che mi doveva dire ha abbassato la voce a un bisbiglio in quel momento è passato un camion giù in strada quasi non lo sentivo ho avuto paura Fatima ma ti prego ti prego non dirlo a nessuno gli ho appena accennato una specie di veloce carezza perché mi vergognavo a toccarlo e poi non era una cosa conveniente a cena a cena ha urlato la moglie di Esan Khan non temere gli ho sussurrato lo sapremo solo io e te poche settimane dopo Iqbal partiva e io pure quella è stata una delle nostre ultime conversazioni vorrei avergli fatto quella carezza che